bravi bravi brava continassa brava dirigenza bianconera bravissimi comunque prima di prima di iniziare con sto video notizia ultimora one football la mia applicazione di calcio che vi permette di ascoltarvi tutti i mondi del calcio tutto di più come in tutti i miei video sul mio canale fino a fine bianconero cristiano ronaldo lascia la juventus io so felice io so felice non sono triste so felice perché finalmente ci siamo tolto un giocatore di 120 milioni e poi questi milioni vanno a finire dove nel bate nella bidone dell'immondizia no vanno a finire nella cacca putt da comunque sì va bene sono contento questo un video sfogo sono contento perché ronaldo il sottoscritto cristiano ha destato per tre anni un giocatore della juventus nuovo acquisto juventus bianconero 2018 cristiano ronaldo nuovo giocatore bianconero non ho giocato dalla juventus prima c'è un po spessa primo anno seconda stagione seconda c'è un po spessa terza stagione terza c'è un po spessa quarta stagione via magister city nuovo giocatore sarà cristiano da magister city in inghilterra il bello non è che cristiano da lasciato la juve ma se ci siamo stancati ogni volta in campo i tifosi siano stancati di vedere cristiano dalla juventus e invece i mister pirlo come si chiama anche di la dirigenza bianconera voleva ancora vedere cristiano ronaldo nella juventus e poi oggi è stato il giorno decisivo cristiano ronaldo addio definitivo con la juventus e dico io perché abbiamo speso tutti quei milioni abbiamo speso non 30 milioni 40 milioni 80 milioni no abbiamo speso 120 milioni per un giocatore di 34 anni a posti di acquistarci giocatore avevamo 100 milioni le abbiamo spesi per un unico giocatore e poi il petrani non ha fatto niente non pensate alle tia la tipletta le tiplete non pensate i gol pensate come è stato il giocatore proprio in questi tre anni non pensare che ha fatto una tipetta quattro dico di madrid perché adesso non sta non c'entra niente però un tre anni 120 milioni a dico io ma perché te lo acquisti noi 120 milioni potremmo veramente comprarci dei giocatori forti dei poteri giovani giovani dei poteri giovani dei difensori dei centrocampisti giovani capisco l'attacco ma il centrocampo per la juventus è importante la juventus non è una squadra di anziani una squadra di giovani è soltanto che in campo vediamo tutti i giocatori che hanno un'età superiore ai 28 anni 30 anni 28 anni qualcuno che c'è una 24 qualcuno che c'è una 22 sì però adesso dico la mia sono contento che cristiano ronaldo ha lasciato la juventus prima ho sbagliato un video registrato e poi l'ho sbagliato perché perché mi sono messo a risultare sì che bello ronaldo lasciato a juventus lo potete fare anche in questo video però voglio che sia un video pulito ovvero che non deve risultare devo dire la mia comunque io sono sta contento che ronaldo ha lasciato a juventus e sarà un nuovo giocatore del city e questo è il calcio mercato ue city parlando del calcio mercato inter lazio parlando del calcio mercato inter genoa per commessi genoa per commesso a lazio per commesso l'inter compresi juventus e city per quale motivo perché corea gli occhi in corea poi vedete su suon football gli occhi in corea nuovo giocatore dell'inte e in zaghi se l'ha ripreso e adesso la lazio inizia a perdere dei colpi poco salvi e salvi sperando che la lazio continua ad avere il proprio gioco perché una forte è una grande squadra adesso cosa vogliono fare cosa vuole fare anche la lazio vuole togliersi vuole togliersi cai sedo questo giocatore l'uomo dell'ultimo minuto lungo il l'uomo dell'ultimo minuto perché ogni ogni volta che entra nei minuti final segnala sempre se che se dove al genoa e adesso che gli occhi in corea e dell'inter adesso la lazio vuol pensare che questi due giocatori con questi milioni se li spende per comparsi un giocatore vecchio no si spende per comparsi i giocatori dei giovanili da attaccanti centrocampisti o portieri oppure che il luogo che riguardano anche l'ambito giovanile dell'under 21 22 e poi si mette in campo nella formazione titolare della lazio così si fanno gli acquisti e come dire io sono dirigente del milan vabbè spendo voglio togliermi che ne so ibraimovic mi tolgo castiglieco e mi tolgo che si sotto i giocatori che non sono stanchi per giocare al mina vanno via dal mila io mi acquisto altri giocatori non mi spendo non spendo quei milioni per un unico giocatore è un video sforo poi quando cristiano ronaldo è entrato nella juventus questa squadra l'ha rovinata quando cristiano ronaldo è entrato nella juventus non è stata più la juve di prima la più grande juve è stata nell'epoca degli scudetti dal 2010 dal 2012 2011 2012 dal 2017 quale è stata una juve non pensate la juve di sari la juve di allegro cristiano ronaldo se specialmente juve di sari che non mi è piaciuta per niente pessima e anche la juve con allegri di due anni fa anzi di tre anni fa la più bella juve è stata 2017 2018 quella parte quella quella juve senza cristiano ronaldo che aveva quei giocatori forti e io la voglio ritrovare questa juve e so contento che ti sa nado è andato via perché per coppa daniele per coppa della dirigenza la juve si è automaticamente distrutta avevamo dei grandi giocatori e poi le abbiamo sprecate da fino a fine bianconeo vi saluto e vergogna a tutti e io posso contendo che non andano trattare alla juventù basta